E' una critica a tutto campo quella che l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso muove agli amministratori locali rispetto ai ritardi per la messa in sicurezza dell'acquifero. Nel mirino dell'osservatorio che riunisce le associazioni WWF, Lengambiente, Mountain Awareness, Arci, Pronatura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI e Italia Nostra, Ci sono soprattutto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco di Teramo, nonché presidente di Ance Abruzzo, Gian Guido D'Alberto. Inutilmente, scrive l'osservatorio in un comunicato, avevamo ricordato come le gestioni commissariali non sono la soluzione di tutti i problemi, come dimostra il precedente commissariamento Balducci. E altrettanto inutilmente, continua ancora il comunicato, avevamo suggerito che ad occuparsi della questione fossero coloro che hanno avuto dai cittadini abruzzesi il mandato di governare. Oggi ci si accorge che dopo i mesi di ritardo accumulati per la nomina, continuano le associazioni, ne sono stati accumulati altri nove dopo la nomina e il commissario, non ancora né la struttura né la sede. Per la verità lo si sapeva da tempo, continua il comunicato, visto che lo aveva evidenziato lo stesso commissario a Teramo nella sua prima uscita pubblica. Nel frattempo, continua l'osservatorio indipendente, i problemi sono ancora tutti lì. Neppure un litro di sostanze pericolose stoccate nei laboratori di fisica nucleare è stato rimosso, non si è ancora individuata una strategia da adottare per isolare le gallerie e i laboratori dell'acquifero. Si continuano a buttare 100 litri di acqua al secondo prelevati dai punti di captazione intorno ai laboratori e nel frattempo si va alla ricerca di nuove sorgenti in quota da captare, senza alcun rispetto dei più elementari principi di sostenibilità. In più, conclude il comunicato, il sistema di allerta per individuare possibili elementi inquilanti nella nostra rete dell'acqua potabile, per quanto moderno, efficiente, costoso e come sempre a carico dei cittadini.